ciao ragazzi buongiorno buongiorno amici di facebook oggi ci troviamo a Borgo Marino Gigante Club in questa bellissima struttura siamo a Zambrone abbiamo dei problemini di linea però speriamo che comunque le immagini la voce possa sentire soprattutto le immagini possa rendere al meglio questa bellissima struttura noi siamo sempre abbastanza presenti ci sono tanti altri video, tante altre dirette presso questa fantastica struttura Borgo Marino Gigante Club ci troviamo a Zambrone quindi costa tirrenica calabrese a pochissimi chilometri da Tropea quindi tra i fantastici borghi d'Italia e qui poi c'è uno scenario fantastico, praticamente al tramonto si visualizzano si vedono le isole olie tutto illuminato, è veramente veramente fantastico allora Antonio noi qui siamo con apertura dal 28 maggio stagione fino al 10 settembre sempre a completo in questo momento tutte le famiglie sono a completo tutte le stanze sono a completo stanno eventualmente pranzando stanno facendo chi fa la formula pensione completa perché qui abbiamo una doppia formula una formula pensione completa con le bevande e pasti e una formula residence per quanto riguarda la formula residence eventualmente per le poche disponibilità che rimangono dovete eventualmente contattare la struttura il borgo marino village per le eventuali disponibilità in formula pensione completa la gigante viaggi laddove dovesse essere disponibile vi proporrà la migliore offerta in pensione completa con acqua e vine e pasti servizio spiaggia animazione ed uso piscina allora come potete constatare la struttura è immersa nel verde ci sono varie abitazioni sulla destra sono prevalentemente questi corpi a doppio piano dove ci sono all'interno la formula residence sulla sinistra ci sono i corpi in pensione completa allora Antonio io c'è qualche uno che si sta commentando e sta entrando in diretta allora intanto saluto il signor Riccardi buongiorno salve il signor Vincenzo il signor Federico che dice che sabato sarà qui saremo qui ad aspettarla ci vediamo il 9 luglio Antonio Tozzi perfetto carissimo la signora Farabellomo buongiorno signora Fara buongiorno a tutti allora io metto qui Antonio nei link nei commenti metto un link cliccando sul link che adesso io ho inserito all'interno della sezione messaggi entrerete all'interno del nostro sito direttamente sulla pagina del Borgo Marino da lì ci sono le tendine per quanto riguarda la disponibilità potete scegliere la settimana e già vedete in base alla settimana l'eventuale disponibilità di camere ed eventualmente i prezzi in offerta allora il servizio spiaggia qui è incluso dalla terza fila in poi la prima e la seconda fila non sono diciamo come supplemento ed è un'assegnazione che dà più che altro la struttura privilegiando le famiglie con i bambini piccoli o le persone un po' più anziane diciamo così sono massimo cinque file come adesso andremo a vedere in spiaggia abbiamo un campetto polivalente tennis e calcio all'interno di questa struttura saluto un po' a tutti allora signora Caterino noi non abbiamo il nelema non è una struttura che riguarda la gigante viaggi mi spiace allora Antonio scendendo proseguendo per questo fantastico viale abbiamo terminato diciamo terminiamo la zona sportiva con questo campo in erba sintetica polivalente calcio tennis e praticamente entriamo nel cuore dei servizi dove qui abbiamo la piscina con un bel solarium alle spalle della piscina abbiamo una zona bimbi le immagini sono la migliore testimonianza di quello che andrete a trovare all'interno dei villaggi targati gigante viaggi il Borgo Marino è un gigante club quindi un'organizzazione come noi possiamo constatare quotidianamente perfetta un'erogazione della ristorazione con servizio al tavolo quindi non è buffet ora andremo anche nella sala ristorante dove ci sono tutti i clienti che stanno pranzando una sala ristorante frontemare con un servizio al tavolo perfetto signora javarone vi stiamo aspettando siamo qui ad accogliervi al Borgo Marino o in qualche altro nostro villaggio targato gigante viaggi allora questa è la zona come detto piscina ci sono ancora delle camere qui sulla sinistra quindi significa veramente avere una camera qui a 20 metri 10 metri dal servizio spiaggia allora ovviamente qui Antonio c'è l'animazione animazione per adulti per bambini diurna e serale in questo momento abbiamo un ragazzo dello staff dell'animazione che durante la pausa pranzo allieta con un po' di musica dolce in sottofondo buongiorno buongiorno e questo è il fantastico mare di Zambrone sabbia un po' di bricio per tre metri diciamo dalla prima fila ad andare verso la battigia e poi l'ingresso in acqua è veramente dolce ci sono clienti ancora in spiaggia come è potuto far vedere Antonio in questo momento la spiaggia è divisa in due zone in una zona ci sono massimo cinque file nell'altra zona massimo tre file con una passerella che scende a dividere le due zone e noi in questo momento Antonio siamo sulla terrazza che praticamente congiunge la zona bar la zona servizi con la parte ristorante questo fantastico fantastica terrazza sul mare ripeto qui la ristorazione con un servizio al tavolo e andiamo direttamente in sala così faremo vedere la tranquillità dei clienti ci hanno già intravisto ci stanno salutando ma signor Sergio Atanasio i clienti scelgono il Borgomarino perché fanno il servizio al tavolo abbiamo tantissime altre strutture che fanno il servizio a buffet sul Borgomarino abbiamo voluto dare la struttura ha voluto dare la direzione ha voluto dare un'impostazione diversa con un servizio al tavolo ed è molto molto gradito prego Antonio buongiorno signora prego buongiorno prego prego fa caldo sembra che siamo al mare siamo sul mare buongiorno meglio che le immagini parlano da sole la clientela tranquilla tutto servizio al tavolo un giorno metto ripeto ci troviamo al Borgomarino Gigante Club siamo a Zambrone direttamente sul mare costa tirrenica vicino a Tropea quindi Calabria tirrenica Borgomarino Gigante Club buongiorno salve tutto bene grazie mille signor Perrella Pasquale la testimonianza degli ospiti è il miglior biglietto da visita allora usciamo dalla sala ristorante signora Pirozzi saremo qui ad attenderla giorno 20 20 agosto suppongo allora Antonio questa è un'altra zona perché la struttura già dall'anno scorso ma quest'anno ancora in maniera più potenziata da un servizio di rosticceria e di pizzeria per quanto riguarda sport soprattutto per la clientela in formula residence buongiorno quindi qui per clienti che volessero degustare la pizza degli chef tranquillamente in formula residence possono attuare questo servizio o per chi ha la pensione completa potrebbe valutare insieme alla direzione qualche cambio ok salutiamo il signor Amadi che addirittura ci saluta dalla Libia siamo arrivati in Libia non siamo internazionali quindi fantastica sicuramente nazione ma io direi di portare avanti il made in Italy con questo fantastico mare con tutto il rispetto per la Libia o qualsiasi altra nazione al mondo un abbraccio a tutti quelli che ci seguono in Italia e non solo quindi un carissimo amico al nostro carissimo saluto al nostro amico Amadami Alomami si entriamo in bar al bar buongiorno ok accoglienza strumentale musicale per il vostro ingresso al ristorante buongiorno grazie 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 Andrea Scuderi ci dice agenzia top un saluto da Catania carissimo salutiamo l'amico nostro Luigi Amante grazie Simona Cruciani l'Italia è l'Italia con tutto il rispetto per il resto del mondo si allora entriamo nella sala bar dove ad accoglierci c'è uno staff uno non c'è nessuno adesso sono tutti spariti sono in pausa pranzo ok la signora c'è ci siamo ci siamo tutti ci siamo tutti allora qui insieme ai nostri cari amici ai ragazzi che ci saranno più che altro nel pomeriggio potete prendervi un caffè un aperitivo un amaro uno spritz che lo fanno veramente ottimale l'abbiamo assaggiato noi vero quindi degustate i vostri aperitivi il vostro amaro il vostro caffè in compagnia di questi splendidi signori dei ragazzi che ci sono nel pomeriggio e vivervi soprattutto un mare poi nel pomeriggio che è veramente fantastico signori un abbraccio buon lavoro e buona stagione 2022 allora Antonio io continuo a salutare qualche d'uno allora il signor Pasquale Angioli dice che sarà qui in struttura ad agosto perfetto mentre ripeto la signora Menariccio signora noi ci troviamo al Borgo Marino Gigante Club villaggio direttamente sul mare come puoi constatare siamo a Zambrone a pochissimi chilometri da Tropea quindi costa tirrenica calabrese quindi io saluto veramente e ringrazio veramente tutti il signor Pasquale la signora Romano il signor Marino Papagni la signora Palmieri che dice ci vediamo il 6 perfetto poi sì vi aspettiamo qui in struttura a vivere veramente una stagione top ma come lo stanno vivendo i nostri clienti in questo momento la tranquillità in sala regna sovrana quindi significa un servizio al tavolo quindi un'accuratezza soprattutto nei dettagli va bene che ovviamente con un servizio al tavolo si ha una cucina espressa una cucina sempre calda una cucina al momento e su questo la struttura ci punta tantissimo un po' con un ristorante fronte mare veramente pazzesco sì signora grauso è direttamente sul mare il villaggio il ristorante è direttamente sul mare tutto sul mare ripeto Antonio noi ci troviamo buongiorno ci troviamo a Borgo Marino Gigante Club Zambrone costa con uno spettacolo uno scenario incantevole sì signora Cruciani vabbè a prescindere che la struttura il video lo può rivedere una volta finita la diretta lo può ricontinuare a rivedere anzi noi questo è il nostro obiettivo ci siano tante visualizzazioni facciamo crescere condividendo questi fantastici video che facciamo queste fantastiche strutture che vi proponiamo per la stagione estiva 2022 perché più siamo più condividiamo e più noi ogni anno possiamo crescere e darvi il meglio per la prossima stagione quindi noi vi ringraziamo la nostra forza siete voi utenti siete voi clienti che per noi siete degli amici quando noi veniamo qui in struttura come avete visto ci salutano ci prendiamo un caffè e passiamo qualche ora insieme il nostro obiettivo è farvi stare veramente bene nei villaggi targati gigante viaggi Borgo Marino è un gigante club quindi questa struttura signora giusto per dare un po' di numeri questa non è una struttura grande stiamo parlando che può ospitare un 300 posti un 300 ospiti mi scusi divisi più o meno metà in formula residence e metà in formula pensione completa quindi una struttura molto raccolta direttamente sul mare con un bello spazio verde che la circonda questa è la zona bimbi quindi tutto molto concentrato sì l'atmosfera qui signore è molto gradevole considerando che sono l'una e mezza inoltrata la gente a pranzo nel pieno servizio una tranquillità in sala ma poi ecco essere accompagnati con una piacevole musica sottofondo dal vivo soprattutto con chitarra è veramente un qualcosa che ci fa vivere meglio la giornata questo invece è l'anfiteatro Antonio sulla tua sinistra sì qui non c'era niente di preparato con il ragazzo che suona ah sì sì no effettivamente giustamente Antonio dice le nostre dirette non sono preparate neanche la struttura sa quando noi veniamo quando noi veniamo noi facciamo sempre delle sorprese perché ovviamente vogliamo constatare di persona che tutto ovviamente fili per come diciamo c'è assicurato da parte delle strutture quindi noi veniamo appositamente poi in giornate noi avvisiamo al massimo un giorno prima ma neanche la struttura avvisiamo voi utenti attraverso diciamo il post della diretta che andremo a fare quindi non è mai niente di preparato noi siamo sempre qui andiamo nelle strutture facciamo le nostre dirette quindi quello che noi constatiamo in quel momento lo vedrete anche voi direttamente quando siete ospiti nelle strutture targate gigante viaggi anzi devo dire devo dire una cosa avevo chiesto stamattina appena siamo arrivati avevo chiesto alla fantastica Terry che sarebbe praticamente il capovillaggio della struttura di poter fare una chiacchierata con noi per poter diciamo illustrare un po' diciamo i servizi dell'animazione e quindi diciamo come si svolge si svolgono le attività purtroppo la collega è dovuta andare via dalla struttura che aveva un attimino un problema personale quindi non è potuta stare qui con noi e quindi dare illustrazione dei servizi dell'animazione ma qui l'animazione è veramente buona di alto livello si signora c'è animazione per tutti per adulti bambini diurna e serale in questo momento c'è un intrattenimento musicale in quanto siamo in una pausa delle attività ma l'attività musicale durante diciamo l'accompagnamento dell'entrata in sala quello rimane quotidianamente bene signora ha detto una cosa la signora Simona a cui c'è ha detto una cosa fondamentale certo Antonio noi siamo la parte diciamo l'immagine della Gigante Viaggi dietro di noi ci sono ovviamente uno staff di ragazze che accontentano tutte le vostre esigenze e cercano di rendere al meglio e di semplificare al meglio il vostro preventivo e quindi la vostra scelta della vacanza scegliendo scegliendo comunque strutture soprattutto quest'anno di un certo livello facendovi garantire un soggiorno fantastico come stiamo riscontrando quest'anno quest'anno come non mai tutte le nostre famiglie tutti i nostri villaggi sono al completo e tutte le famiglie dei nostri nei villaggi stanno dando riscontri solo ed esclusivamente positivi questo per noi è veramente fantastico vuol dire aver centrato l'obiettivo per le vostre vacanze Antonio qua fa un caldo oggi veramente in Calabria siamo a 40 gradi la parte tirrenica è leggermente un po' più fresca rispetto alla parte ionica noi veniamo dalla parte ionica ci sono quei due gradi in più da quella parte che siamo tendenzialmente più verso l'Africa da quella parte siamo in Calafrica mentre qui sulla parte tirrenica si sta leggermente più freschi un paio di gradi in più in meno scusatemi rispetto alla parte ionica ci sono però qui comunque oggi fa veramente caldo siamo nel nel bel mezzo del sole allora ci vediamo ad agosto perfetto signora Patrizia andeboto salutiamo la signora Angela Fania o Fania o Fania buongiorno signora il signor Salvatore Federico menziona Raffaella dicendo che professionale gentile eccetera sono tutte le ragazze della Gigante Viaggi non staff del booking salutiamo Raffaella salutiamo Romina salutiamo Rosi salutiamo Luna salutiamo Alessia salutiamo Claudia queste sono soltanto una parte diciamo centrale del booking Gigante Viaggi e loro saranno sempre a disposizione per darvi veramente la migliore offerta laddove ancora ci dovesse essere disponibilità o per il Borgomarino Gigante Club o per qualsiasi altra nostra struttura ripetiamo solo un attimino le strutture Gigante Viaggi estate 2022 allora il Borgomarino Gigante Club io adesso rimetto all'interno nuovamente il link dove poter andare a visualizzare la struttura sul nostro sito Gigante Viaggi all'interno di questa struttura voi andrete ci sono le tendine per visualizzare la settimana che è meglio di garba in base alle vostre esigenze per le vostre ferie di vacanze e valutare effettivamente se c'è la disponibilità o meno nel momento in cui siete sul sito di Gigante Viaggi se al Borgomarino Gigante Club non dovesse esserci disponibilità vi illustro quali sono le altre strutture targate Gigante Viaggi Futura Style Madama a steccato di cutro 4 stelle giusto per rimanere un attimino in Calabria rimanendo sempre in Calabria Futura Club Casa Rossa 4 stelle direttamente sul mare Crotone Futura Club La Praia ex Pizzo Resort quindi ci troviamo Pizzo quindi a pochissimi chilometri da qui da Zambrone un altro 4 stelle direttamente sul mare in Calabria abbiamo la Gigante Viaggi può convanto dire di avere la migliore struttura che è il TH Calecastella Baia degli Dei e prossima settimana dovremmo essere in struttura quindi per farvela vivere dal vivo insieme a noi e poi le altre due strutture una in Basilicata Giardini d'Oriente a Nova Siri quindi Costa Ionica e in Puglia il Punta Grossa Resort a Porto Cesario quindi nel bel mezzo del Salento quindi quest'anno una scelta ottimale per le vostre vacanze ok la signora Cruciani comunica di aver scelto il Punta Grossa quest'anno quindi va nel Salento ottima scelta signora credo che forse saremo lì primi di luglio vediamo un po' la stiamo ragionando la stiamo ragionando per fare una diretta anche lì poi signora Serra il mare noi siamo diretti sul mare ripeto una volta terminata la diretta può riavvolgere il nastro buongiorno buongiorno tra virgolette può riavvolgere il nastro nel senso può rivedere la diretta della struttura rivedere la struttura dove è ubicata e vedere effettivamente che siamo direttamente sul mare come in questo momento ci stiamo avvicinando al mare allora poi perfetto il signore Lello Aiello tutto ben fatto bene ha fatto già una vacanza qui dall'11 al 18 quindi è appena andato via sabato scorso è stato un peccato non poterci incontrare perfetto ha già risposto la signora Andeboto dove dice che comunque la piscina e la spiaggia distano neanche 50 metri signora Cruciani sarà dal allora la signora Cruciani vorrebbe conoscerci di persona dice che sarà Antonio lì al Punta Grossa dal 2 al 16 luglio può essere che forse non lo non lo diciamo forte ma può essere che forse una capatina in quel periodo sarà fatta presso il Punta Grossa resort benissimo allora Antonio giusto per rispondere a un cliente facciamo vedere questo fantastico mare quindi questa struttura adagiata sul mare grazie mille la signora Mariangela è stata qui l'anno scorso con noi mi auguro che quest'anno abbia scelto un'altra struttura gigante viaggi per vivere le sue vacanze comunque testimonia effettivamente lo stare bene all'interno di questa struttura ripeto Borgo Marino gigante club siamo a Zambrone costa tirrenica a pochissimi chilometri da Tropea allora signor Giordano la sabbia è sabbia poi c'è dalla prima fila alla alla battigia ci sono c'è Briccio poi si entra nuovamente in mare con la sabbia oggi sono di nuovo in tanti Antonio vi piace la diretta dell'una e mezza vi piace che noi ci cuciniamo siamo tutti sudati però questo è il nostro scopo comodi a casa stanno pranzando si stanno prendendo un caffè freddo perché col caldo qua non si può non si può mica scherzare però Antonio vi farei vedere veramente questo fantastico mare siamo qui ad aspettarvi ed accogliervi per vivere una bella estate con una fantastica animazione una fantastica direzione e noi di supporto come Gigante Viaggi ragazzi non vi rimane altro che scriverci contattare il numero 0961 96 46 66 dopodiché dalle 15 e 30 le nostre colleghe dello staff booking saranno a disposizione per i vostri preventivi o al Borgo Marino Gigante Club o presso le altre nostre strutture targate Gigante Viaggi non vi rimane che condividere i nostri video mettere i mi piaci sulla nostra pagina Facebook mettere i mi piaci sul video che state vedendo ripeto siamo in diretta ma il tempo che finisce la diretta il video rimane stazionato lì sulla pagina Facebook della Gigante Viaggi anche sulla pagina Facebook del Borgo Marino Village in maniera tale che lo possiate rivedere quante più volte lo vogliate mettere il mi piace e poterlo condividere e spargere la voce che insieme a noi starete in dei fantastici posti signori buona estate buon soggiorno nei nostri villaggi Gigante Viaggi e soprattutto buone vacanze targate Gigante Viaggi estate 2022 ci vedremo alla prossima diretta che diciamo sarà al TH le Castella Baglia degli Dei la prossima settimana ma vi terremo informati un abbraccio da Paolo Antonio da questa fantastica musica in sottofondo un'animazione fantastica al Borgo Marino Gigante Club dalla direzione dalla famiglia Miceri un abbraccio da tutto lo staff ciao ragazzi e buona buona estate 2022 prezzo